Alba Parietti, mia madre era meravigliosa Alba Parietti Alba Parietti è stata tra gli ospiti della puntata di sabato 30 settembre dei Il Sabato Italiano, su Rai 1. L'intervista si è aperta con un videomessaggio toccante del figlio Francesco Sini, ho sofferto nel periodo del liceo, spesso i miei compagni si divertivano a lanciare battutine contro una madre che può essere vista come un riferimento da un punto di vista sessuale. Ma lasciavano il tempo che trovavano. Spesso ho trovato un senso di fastidio. È sempre stata una madre presente. Le chiedo di ascoltare di più le persone che le vogliono bene, spesso fa fatica a scindere la vita lavorativa da quella reale. Alba, emozionata, ha risposto con il cuore aperto, ha ragione. Un solo appunto, io faccio finta di non ascoltare, ma mi resta tutto. Le parole sono pietre, do molta importanza a quelle che mi vengono dette. Quindi l'Alba nazionale ha parlato dei suoi genitori, Francesco e Grazia. Raccontandosi, Alba ha trattenuto le lacrime. Non mi piace vedere gli altri piangere in televisione. Grazie per la visione!